Dopo l'ottima vittoria ad Ostuni, la Cilento Basket Agropoli cerca il bis al Pala di Concilio contro Bernalda. I cilentani sono obbligati a vincere per continuare ad inseguire il sogno playoff. Nell'ultima partita della squadra del presidente Ruggero, ottima prestazione di Wisnic con 38 punti e Nobile con 18, Bernalda arriva dalla sconfitta casalinga con Benevento, migliori marcatori del match La Quitana e Di Monte. Appuntamento alle ore 18 al Pala di Concilio di Agropoli per cercare di rimanere insieme alle grandi del Girone.